Allora Press, finita questa sofferta partita, 4-1 contro Kezmaia, squadra importante, cosa ne pensi? Mi è tutta soddisfazione per l'ottimo risultato 4-1, complimenti allo sport di Kezmaia che nonostante il risultato che è contro di loro, hanno fatto un'ottima partita, ci hanno dimostrato di valere tutta la classifica che hanno. Noi comunque siamo congi con le nostre forze, abbiamo la giustatrice, giocando con una squadra giovaneggiata, mancavano un sacco di giocatori, però abbiamo avuto l'occasione, abbiamo messo in gol, siamo felici, continuiamo la nostra corsa senza guardare nessuno, poi in fondo guarderemo le vestiare, se saremo su, meglio, se no, faremo con gli altri anni. Ancora una cosa, perché abbiamo mandato all'inizio i due messaggi per Vladi, che è un nostro importante dirigente, cosa vuoi dire a proposito? Questa vittoria la dedichiamo esclusivamente a lui, a uno di noi, a uno che ci tiene, a uno che è sempre dato a noi, sappiamo che sta vivendo un momento difficile e siamo tutti con noi, speriamo di vederlo più presto, quando è nel campo a gioire delle vittorie, speriamo che è la nostra scuola. Va bene, grazie Press. Grazie.